Ciao ragazzi, sono qui per presentarvi alcuni degli attrezzi, degli elementi semplici che utilizzeremo nell'allenamento funzionale. Questo è il Bosu, ovvero una emisfera da una parte piatta e dura, rigida, dall'altra parte invece c'è una superficie tonda e morbida, un piatto d'aria. Questo ci serve per creare proprio eccezione. L'obiettivo del Bosu è quello di creare instabilità in modo tale che il nostro corpo non possa adattarsi e quindi i nostri muscoli saranno sempre obbligati a stimoli differenziati. Possiamo utilizzarlo sulle gambe, possiamo utilizzarlo sulle braccia, possiamo utilizzarlo sugli addominali, è una attrezza molto versatile. In realtà andrebbe bene per tutto il corpo, quindi vi aspetto per provarlo.